ciao oggi parliamo della prima delle fonti non rinnovabili il petrolio il petrolio ha un'origine che possiamo vedere in questi video in separata sede quindi il primo proviene dal nostro libro di testo in adozione scuola il secondo riguardante la formazione del petrolio invece è dall'altro libro da zanichelli sappiamo che il petrolio fa parte di un insieme di due fonti non rinnovabili che sono gli idrocarburi il petrolio quindi lo troviamo di solito insieme al gas naturale si chiamano idrocarburi perché la loro composizione chimica è fatta da atomi di carbonio e atomi di idrogeno idrogeno idrocarburi carbonio il petrolio deriva la sua parola dal petrolio cioè olio di pietra perché è un olio è denso è sotto forma liquida densa però si trova all'interno di rocce e per questo petrolio il gas naturale invece come dice la parola è sotto forma di gas continuiamo a vedere la sua origine guardando questo schema allora noi vediamo un basso fondale marino dove milioni di anni fa organismi marini animali e vegetali denominati alle volte come plankton si sono depositati sul fondo dell'oceano naturalmente abbiamo detto bassi fondali non di diversi chilometri quindi si sono mescolati con fanghi e detriti qui sul fondo e hanno quindi formato degli strati di sedimenti questi compattandosi hanno formato delle rocce che si chiamano roccia madre madre perché da qui ha origine il tutto queste sono sprofondate lentamente sotto il peso di altri detriti quindi altri sedimenti altri strati che col tempo si aggiungevano sopra di essi e quindi tutto questo si è creato una situazione particolare sprofondando sempre più sotto terra allora intanto quindi vi ho detto che siamo in profondità ad elevate temperature perché sappiamo che quando c'è un materiale in decomposizione la temperatura cresce poi abbiamo un'elevata pressione proprio perché dall'alto i sedimenti successivi premono verso quelli che si sono già depositati sotto inoltre abbiamo la presenza di particolari batteri detti anaerobi e cioè possono vivere senza aria questi batteri agiscono nei confronti di questa sostanza animale vegetale questi microorganismi e fanno sì che quindi questi fossilizzino e si trasformino in idrocarburi all'interno quindi delle rocce dette magazzino perché si formano delle vere e proprie trappole dove troviamo i nostri giacimenti giacimenti di petrolio e gas naturale insieme questo è un particolare ingrandito dove vediamo che praticamente gli idrocarburi sono immersi dentro questa roccia porosa che quindi ha come una spugna diventa naturalmente non è morbida ma è solida però è una spugna che assorbe nei suoi fori questi idrocarburi insieme ad acqua quindi troviamo acqua che naturalmente è mescolata acqua petrolio e gas naturale anche se non tutti nello stesso momento perché poi vedremo anche dai video che ho legato soprattutto della zanichelli che praticamente la densità differente di questi elementi fa sì che questi non si trovino proprio insieme nello stesso punto ma alle volte sono divisi proprio da questa loro differente pesantezza tra un e l'altro sappiamo per esempio che il petrolio galleggia sull'acqua proprio come l'olio di oliva che possiamo provare una goccia e metterla in un bicchier d'acqua e vediamo che galleggia vediamo adesso come è possibile trovare il greggio il greggio sarebbe il petrolio ancora da raffinare da lavorare intanto come primo metodo abbiamo le fotografie aeree cioè i geologi che sono gli scienziati che studiano appunto il terreno e quello che c'è all'interno guardano dall'alto le fotografie degli aerei ma anche dai satelliti e riescono a capire tramite la conformazione dove potrebbero esserci dei giacimenti dopodiché iniziano gli esperimenti per esempio con la sismica a riflessione sismica cosa vi fa venire in mente i terremoti e infatti non è tanto differente noi abbiamo una sorgente dove si fa scaturire un'onda sismica che va nel sottosuolo e poi risale e viene ricevuta vedi ricevitori i geofoni che sono degli strumenti che ricevono queste onde e da questi segnali che arrivano i geologi riescono a capire cosa troviamo sottoterra questo non è un metodo utilizzato soltanto per trovare i giacimenti di petrolio e gas naturale ma i geologi lo usano per tante ricerche vediamo adesso in pratica il geofono ecco questo strumento che sembra un computer vedete ha una tastiera simile a un computer e poi il geologo che con questo strumento simile a un martello vedete collegato con un cavo al geofono dall'altra parte del campo lancia quindi colpisce il terreno manda l'onda che poi risalirà e verrà quindi poi analizzata abbiamo poi un altro metodo che è quello delle sonde le sonde sono praticamente degli strumenti che vanno in profondità e scavano e prelevano in profondità un campione di terreno che essendo di forma allungata vedete questo genere e viene denominato carota infatti l'operazione per estrarlo si chiama carotaggio poi questo campione viene analizzato in laboratorio dai geologi e così sanno appunto se all'interno di questo terreno o roccia trovano delle particelle di idrocarburo e allora si può procedere con l'escavazione ecco una volta che abbiamo capito dove si trova il giacimento dobbiamo estrarlo attraverso tutto un insieme di strutture vedete questa è la principale questa struttura alta che praticamente è la torre di estrazione denominata derrick in fondo abbiamo questo elemento che ha lo scalpello rotante vedete qui vi ho messo anche un altro ingrandimento di un'altra forma che scava sempre più in profondità è collegato a delle aste man mano che si va sotto terra si aggiungono per andare sempre più in profondità si arriva anche a diversi chilometri e naturalmente per farlo raffreddare e lubrificare si manda giù insieme dei fanghi dei fanghi che poi risalgono in superficie attraverso degli altri elementi che quindi poi riportano su petriti e fango in eccesso naturalmente le pareti di questo scavo che poi non è comunque molto grande viene fatto mettendo attorno una struttura per poter reggere appunto che non crolli all'interno la le parti di terreno di roccia eventualmente franabili perforato il giacimento questo diventa che esce esce il materiale all'interno con una forte pressione per lo meno all'inizio non sempre dopo un po la pressione scende e di conseguenza diventa necessario poter inserire un altro elemento come può essere gas o acqua per poter far emergere il petrolio proprio in questi due video che vi ho messo di super quark in particolare il secondo fa vedere proprio l'estrazione del petrolio con un plastico il fisico abbastanza famoso pacco lanciano vi fa vedere in pratica con un modellino come possibile tutto questo le piattaforme petrolifere che si trovano in mare e la maggior parte dei giacimenti si trovano appunto sotto il mare perché in origine già erano sotto bassi fondali marini si chiamano offshore che vuol dire appunto al largo le profondità raggiunte cambiano e in questo modo cambiano anche i tipi di piattaforma se per esempio siamo una profondità piuttosto elevata anche fino a 3000 metri quindi tre chilometri abbiamo questo tipo di strutture semisommergibili che sono galleggianti ancorate a terra proprio con degli elementi come le ancore delle navi invece se siamo su fondali molto più bassi quindi intorno ai 150 metri non di più allora si chiamano jack up e se oro di questo tipo quindi ancorate a terra rigidamente naturalmente questo è possibile sui bassi fondali altrimenti diventa difficile andare più in profondità questo si trova vedete la situa alla trivella che va poi quindi queste superfici queste misure che diciamo 150 3000 metri sono riferita all'altezza dell'acqua mentre poi una volta arrivato sul fondo del mare si inizia a scavare quindi in realtà il pozzo petrolifero è ancora più in profondità una volta estratto bisogna trasportarlo e ci sono due modi principalmente il primo è l'olio adotto un lungo tubo che può essere in superficie oppure sotterraneo interrato a terra oppure sotto il mare dove viene pompato il petrolio viene pompato avanti appunto da delle pompe che sono messe ogni tot chilometri o metri altro metodo è quello di sfruttare le navi petroliere le navi cisterne che però sono fatte in modo particolare intanto sfruttano il principio d'archimede per cui un corpo se immerso nell'acqua no galleggia proprio perché la spinta del suo peso fa da contrasto alla forza dell'acqua che spinge da sotto questo vale per le altre navi ma non per le navi petroliere che devono viaggiare sempre a pieno carico però purtroppo ogni tanto ci sono delle rotture e allora esce tutto il petrolio e si crea un disastro naturale per questo motivo si è fatto in modo che le petroliere hanno degli scompartimenti e non è tutto un unico ambiente quello che c'è all'interno ma non era sufficiente allora hanno realizzato le petroliere a doppio scafo in modo che comunque se il primo scafo viene urtato e si rompe non esce petrolio ma acqua quindi deve essere uno scontro una rottura molto più grande per poter riuscire ad arrivare al secondo scafo e quindi al petrolio nonostante questo i disastri naturali avvengono ancora non sono più frequenti come una volta perché soprattutto queste petroliere a doppio scafo sono obbligatorie nei mari piccoli chiusi come per esempio il mediterraneo e quindi purtroppo ci sono ancora dei disastri ambientali analizziamo proprio alcuni disastri naturali causati dal petrolio ce ne sono stati tanti nel corso degli anni provate voi con google a fare una ricerca inserite appunto la cerca disastro naturale e vedrete che purtroppo ne troverete molti e qui vi ho messo alcune foto di alcuni esempi in realtà non solo le petroliere possono rompersi e quindi espandere il proprio petrolio in giro e solo la costa ma anche raffinerie oppure piattaforme petrolifere per esempio abbiamo un film deep water inferno sull'oceano che parla proprio di un disastro avvenuto in una piattaforma petrolifera la deep water a largo del messico qualche anno fa e ne hanno tratto un film abbastanza drammatico ma purtroppo tratto da una storia vera provate voi a fare la ricerca